4 riflessioni psicologiche sulla guerra Mi ha colpito molto la frase All Eyes on Rafa Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta e sono qui su YouTube a parlare di psicologia perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman ovvero che la psicologia deve e può uscire fuori dalla stanza d'analisi deve e può arrivare a tutti ed è per questo che ho parlato in altre sedi, in altri video che potete vedere sul mio canale di guerra, di psicologia della guerra molti psicoanalisti si sono confrontati su questo tema e quando ho letto questa frase in questi giorni mi è venuta in mente una cosa importantissima un ragionamento che parte da Freud sulla guerra e che mi ha aperto a 4 riflessioni in particolare che adesso vi dirò Tutti gli occhi su Rafa, tutti a guardare Rafa e per fortuna direi questo post sta andando virale perché è importante aprire gli occhi sulla guerra perché come diceva Freud è la cecità che ci porta a fare guerra è una cecità interiore ed esteriore che ci porta a fare le guerre quindi quando ho sentito aprire gli occhi su mi ha risuonato tanta la riflessione di Freud perché secondo Freud e non solo ma lo vedremo nel corso di questo video il problema in origine di una guerra è che si è ciechi a qualcosa di interiore all'altro e a qualcosa di esterno non si vuole vedere qualcosa partiamo con le quattro riflessioni la prima è psicoanalitica freudiana conflitto costruttivo e conflitto distruttivo esistono dei conflitti costruttivi e alcuni distruttivi il conflitto costruttivo è il conflitto che crea che distrugge per creare invece il conflitto distruttivo è il conflitto che distrugge per distruggere e accade proprio quando si ha una cecità interiore quando abbiamo il sangue negli occhi come nella mitologia Marte, Ares che era il dio della guerra e aveva il sangue degli occhi non ci vedeva, non ci si vede più dalla rabbia e quando noi non stiamo guardando ciò che dobbiamo guardare inizia una guerra la seconda riflessione è di James Hillman questa è un po' più lunga perché è una seconda riflessione che si divide in quattro punti perché Hillman ha scritto un libro stupendo un terribile amore per la guerra dove ci dice che noi siamo in realtà innamorati delle dinamiche bellicose e siamo innamorati per quattro motivi fondamentali quindi Sara, buongiorno a te ciao, non so perché Siri mi ha detto buongiorno buongiorno a tutti voi tra l'altro quattro motivi fondamentali per i quali siamo innamorati della guerra che sono quattro motivi di cecità che non stiamo vedendo la guerra è normale ci dice James Hillman noi ormai abbiamo assunto la parola guerra come qualcosa di normale la usiamo per tutto guerra tra sessi e la usiamo come parola la guerra contro le casse e la usiamo come parola i conflitti, no? un conflitto interiore usiamo come parola guerra o conflitto soltanto che la parola guerra è una parola che ormai non ci scandalizza più la usiamo così tanto normalmente che non ci scandalizza e non è un problema ci scandalizziamo più per una parola tipo cazzo fregna culo che non per guerra che è molto più pericolosa di quelle parole un cazzo non uccide una guerra sì ci scandalizziamo molto più per una bestemmia un porco Dio se non mi censurano il video qua che per la parola guerra si usa in un discorso della parola guerra nessuno si scandalizza eppure la guerra uccide e questo è un problema fondamentale secondo Hillman perché più normalizziamo una parola più la parola è normalizzata più significa che in quella parola noi non vediamo nessun problema e non solo useremo quella parola ma useremo anche quella dinamica che sottende quella parola nelle parole c'è il nostro problema nel modo in cui lo usiamo la seconda riflessione di Hillman è che è inumana ovvero la guerra non ci permette di vedere l'altro un'altra cecità disumanizza l'altro io vado a uccidere l'altro perché non lo vedo non lo riconosco come essere umano io uccido dei bambini perché per me sono disumani non li vedo come bambini ma ognuno di quei bambini morti se noi li vedessimo veramente sarebbe nostro figlio nostra figlia allora forse non faremmo guerre tu ad esempio uccideresti la persona che sta a fianco a te girati guardala chi è? a parte le facili battute guarda è tua moglie la tua compagna il tuo compagno lo uccideresti adesso non credo ognuna delle persone che viene uccise in guerra noi le disumanizziamo per ucciderle e questo è un grave problema ed è sempre un problema di cecità interiore inoltre dice Hillman che la guerra ahimè è sublime ovvero c'è tutta una narrativa sulla guerra che la rende bella poetica i film le medaglie all'onore se sei stato in guerra sei un cazzo di figo della madonna ed è una stronzata se tu sei andato in guerra non lo dovevi fare punto basta non c'è altra narrativa la guerra non è sublime ogni guerra paradossal una chiamata ogni guerra paradossalmente viene fatta per un motivo figo nella narrativa del vincitore ma attenzione la narrativa del vincitore in realtà ogni ogni guerra sottende un malessere una sofferenza profonda e la quarta riflessione di Hillman è la religione è guerra o la guerra è religione ovvero la guerra come stavo dicendo ha in sé una motivazione è sempre fatta per una motivazione ragionevole ma è proprio lì che stai nell'errore perché noi basta che cambiamo punto di vista e alla guerra gli troviamo una motivazione ragionevole ma è sempre una cazzata è sempre è solo una cazzata quando ci sono morti è sempre è solo una cazzata perché ci stiamo allontanando dalla civilizzazione Freud diceva proprio che ogni guerra distrugge l'illusione che abbiamo di civilizzazione ci allontana ci fa capire quanto siamo lontani dall'essere civili e noi fra cent'anni e duecent'anni quando vedremo le guerre che stanno accadendo oggi diremo mazza quanto erano primitivi quelli così come noi guardiamo al passato gli uomini primitivi o gli antichi romani o gli antichi greci pensiamo mazza o quelli facevano guerre per sta roba stavano fuori totalmente ecco un giorno lo diremo anche dei nostri tempi quando non saremo più ciechi al vedere queste motivazioni che ci spingono alla guerra come cazzate ma finché noi motiveremo daremo una motivazione alla guerra trasformeremo la guerra in religione in qualcosa in cui credere riprendendo il filo del mio discorso dovrei capire la mia scrittura guerra interiore guerra interiore già non ho parlato comunque terzo punto la guerra interiore finché Jung diceva abbiamo delle guerre interiori personali all'esterno saranno prodotte guerre ovvero è un gioco di proiezioni se io non voglio le guerre esteriori devo capire io per quella motivazione farei una piccola guerra ad esempio c'è una guerra di territorio io per il mio territorio farei una guerra la risposta è sì spesso ed ecco perché poi in scala grande ci sono quelle guerre ad esempio scala scala insomma mi ammazza oggi non riesco a parlare mi ha distratto la telefonata scala grande guerra di territorio ce l'ho la guerra di territorio è una guerra dove si vuole invadere il territorio di un altro perché è mio è suo eccetera eccetera se qualcuno venisse dentro casa tua e invadesse la tua casa tu che faresti come reagiresti in quella risposta c'è il motivo della guerra in scala grande questo ci dice Jung ed effettivamente se tutti rispondessimo in modo legale a quell'invasione di casa nostra o in modo sensato in modo comunicativo ci accorgeremmo che anche le guerre in scala enorme grande mamma mia è brutto come lo dico però non lo sto a dire così ho fatto un sacco di chiacchiere intrecciate si è capito comunque ciò che accade dentro di me è ciò che accade fuori per Jung punto facile la dicevo così era più netta e poi c'è un quarto punto di cui non capisco che è amen entità entità va beh cecità questo è il problema fondamentale per la psicanalisi quando si parla di guerra c'è qualcosa che io non sto vedendo o dentro di me o fuori di me c'è un'idea che io non sto vedendo ed è l'idea che supporta quella illusione di civiltà che supporta quella regressione psicologica collettiva perché la guerra è sempre una regressione collettiva di civilizzazione sempre 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 quando il nostro grado di civilizzazione e di comunicazione sarà elevato non ci saranno più guerre di questo ne sono sicuro ed è sicura anche la psicoanalisi fino a che invece non vedremo non ci riusciremo a vedere non riusciremo a comunicare non riusciremo a vedere ciò che c'è dentro e ciò che c'è intorno e non riusciremo a vedere realmente l'altro ci saranno sempre guerre detto ciò se ti è piaciuto il video iscriviti al canale condividilo con qualcuno che è d'accordo con le guerre e accendi il campanellino delle notifiche per non perdere i prossimi video ciao ora mi aspetto tutti i guerrafondai nei commenti siete banali come la guerra come il male che c'è